Nel tempo con le diverse release iOS è migliorato tantissimo, soprattutto nelle funzioni integrate che tendono a migliorare l'esperienza dell'utente. Nello specifico oggi parliamo di telefonate e di tutte le possibilità che vi dà il sistema operativo di Apple di riconoscere un chiamante e quindi capire chi vi sta telefonando anche senza vedere il vostro smartphone e il display. Vi farò vedere tutte le possibilità a disposizione, andremo ovviamente a lavorare nelle impostazioni del sistema operativo per smartphone di Apple e praticamente vi farò vedere tutte e tre le opzioni che sono disponibili e che praticamente coprono tutte le necessità. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di TechFanpage. iOS mette a disposizione diverse possibilità per riconoscere un chiamante anche senza guardare il display. La prima è quella di creare una vibrazione personalizzata. Per farlo bisognerà andare nella sezione relative ai suoni e alle suonerie, scegliere la voce vibrazione e poi scegliere la voce proprio per personalizzare la vibrazione. A questo punto si aprirà una nuova sezione nella quale non dovrete fare altro che effettuare una serie di tap che possono essere lunghi o brevi. Tutta la vostra sequenza verrà memorizzata e salvando la vibrazione la potrete associare a un contatto prestabilito, ovviamente andando nella scheda del contatto. È chiaro che comunque si può fare la stessa cosa assegnando una suoneria personalizzata ad ognuno dei contatti, sempre dalla scheda del contatto nell'applicazione rubrica di iOS, ma non finisce qui. Con il nuovo iOS è possibile anche far sì che si rilegga proprio il numero o il nome di chi vi chiama. Per farlo dovete andare nell'impostazione di iOS, andare nella sezione telefono e attivare proprio la voce relativa alla lettura del chiamante, scegliendo tra le diverse opzioni disponibili che variano dalla pronuncia solo quando si utilizzano auricolari, quando si utilizzano auricolari e sistemi bluetooth in auto oppure sempre. A questo punto ragazzi, impostato ciò che vi serve, impostato una suoneria personalizzata, impostato una vibrazione personalizzata o attivato la lettura del chiamante da parte di Siri, state tranquilli che se vi chiama qualcuno voi riconoscerete il chiamante anche senza guardare direttamente sullo schermo del vostro dispositivo. È una cosa che io trovo estremamente comoda. Personalmente ho attiva la lettura del chiamante. Io sono Dere Galiendo, appuntamento al prossimo video di TechFanPage.